Ciao a tutti voi beduini, questo è un trailer di un video che uscirà domani e lo caricherò in anteprima su MGT. Sarà un video per tutti voi merdoni che vi insegnerà a non nerdare tutto il giorno in quel cazzo di gioco di merda di MW3. Ma a essere più creativi. Perciò domani vi insegnerò a personalizzare il vostro Yoipad in modo semplice e facile. Vi servirà a voi brutti beduini perché lo tenete in mano 19 ore al giorno. Fate schifo vergognata.